Venerdì 30 dicembre, la Proloquo di Caccuri vi invita alla terza edizione della Saga del Maiale, piazza annunziata Caccuri dalle ore 18, un appuntamento gastronomico dove il principe maiale diventa il protagonista di una festa. Solo inaugurazione della mostra a mercato, balli popolari, giochi e dal vivo totomarino con la sua band. Venerdì 30 dicembre, la Proloquo di Caccuri vi invita alla terza edizione della Saga del Maiale, ore 18, piazza annunziata Caccuri. Venerdì 30 dicembre, la Proloquo di Caccuri vi invita alla terza edizione della Saga del Maiale, piazza annunziata Caccuri dalle ore 18, un appuntamento gastronomico dove il principe maiale diventa il protagonista di una festa. Solo inaugurazione della mostra a mercato, balli popolari, giochi e dal vivo totomarino con la sua band. Venerdì 30 dicembre, la Proloquo di Caccuri vi invita alla terza edizione della Saga del Maiale, ore 18, piazza annunziata Caccuri.